Non credo proprio, a parte che Draghi ha con me un rapporto antico e solidissimo, sono stato io che vincendo le obiezioni forti di un mio ministro, Giulio Tremonti, l'ho portato al governatore della Banca d'Italia, sono stato io che vincendo le voglie della Germania attraverso la signora Merkel che voleva presentare come Presidente della BCE il Presidente della Banca Centrale tedesca e quindi credo di avere partecipato in maniera pragmatica e concretissima alla sua carriera e alla sua esperienza. E sono ancora io che ho pensato a lui per un governo di coalizione che potesse mettere insieme anche destra e sinistra in Italia per superare l'emergenza del Covid.